Autismo nel 2016 ad Arezzo un centro specializzato per terapie e ricerca, la promessa di Enrico desideri alle famiglie toscane. Sadam al via la mobilità per i dipendenti dell'ex zuccherificio di Castiglion Fiorentino. Emergenza abitativa, ad Arezzo nasce l'Agenzia sociale per l'affitto per sostenere chi è in condizioni di disagio. Tenga il resto, arriva anche ad Arezzo la campagna contro lo spreco alimentare. Dalle scuole di Siviglia alle imprese di Arezzo al via il progetto di Erasmus di 11 giovani spagnoli. Buonasera dal telegiornale di TSD. Apriamo questa edizione del nostro notiziario con la cronaca. È stato identificato ed arrestato dai carabinieri di Cortona il terzo complice della rapina compiuta ai danni dell'ufficio postale di Borghetto nel comune di Monte San Savino svoltasi il 14 agosto dello scorso anno. Si tratta di un 47enne della Valdichiana nei cui confronti il GIP di Arezzo aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina. Il giorno del colpo, verso le 11.30, tre uomini di cui uno armato di coltello a serramanico erano entrati all'interno dell'ufficio postale minacciando la cassiera. Si erano poi fatti consegnare il denaro oltre alla borsa dell'impiegata scappando subito dopo a bordo di un'auto risultata poi rubata. A novembre i carabinieri erano riusciti ad identificare due dei tre responsabili, un 59enne italiano e un 52enne venezuelano. Le ulteriori indagini hanno portato ad individuare il terzo malvivente che è stato così messo in arresto al carcere di Arezzo. Autismo nel 2016 ad Arezzo un centro specializzato per terapia e ricerca. La promessa del direttore generale della ASL 8, Enrico Desideri, alle famiglie toscane. Ma vediamo il servizio. Inizio dei lavori entro quest'anno e apertura nel 2016. Questo è il proposito espresso da Enrico Desideri, direttore generale della ASL 8 e ben presto dell'area vasta della Toscana Sud, riguardo il progetto di un centro dell'autismo ad Arezzo. L'annuncio ufficiale era stato fatto il 2 aprile 2014 per la giornata mondiale della consapevolezza su questo disturbo. Ad ottobre, alla presenza di Desideri e dell'Associazione Autismo Toscana, la presentazione ufficiale del progetto per la creazione di un centro polivalente per la ricerca, assistenza e formazione per i disturbi dello spettro acustico. Abbiamo chiesto al direttore generale come procede l'iter del progetto. Noi abbiamo messo insieme tre equip. Queste tre equip sono quelli dei medici e degli infermieri e dei fisioterapisti e dei logopedisti dell'ASL e quelli di Vicio Maggio e quelli di Agazzi. Tre equip che lavoravano bene ma non si parlavano. Ora hanno messo insieme i metodi, gli approcci, stanno facendo corsi di formazione insieme e contemporaneamente abbiamo scelto uno spazio unico sul Pionta, bellissimo. La regione ci sta dando un milione per farlo perché se no da soli non ce la facciamo e quindi spero di riuscire ad avviare i lavori entro quest'anno per poter andare nel 2016 anche a questa realizzazione sul Pionta. Attenzione che sarà anche il centro dove oltre che fare l'assistenza faremo anche ricerca perché l'autismo è uno dei campi dove la ricerca latita. Alle parole di Desideria ha risposto in rappresentanza delle famiglie dell'Associazione Autismo Toscana Lady Dervisci, ospite della trasmissione di TSD di giorno in giorno. Mi auguro, speriamo, vogliamo essere fiduciosi che queste promesse verranno mantenute anche perché ormai è passato un anno e sappiamo soltanto lo stabile. Che cosa potrebbe cambiare con la presenza di un centro specializzato ad Arezzo? Potrebbe cambiare moltissimo, innanzitutto per la ricerca come diceva Lady perché ho sentito anche nel servizio che la ricerca latita e questo è verissimo. Non si fa ricerca e in questo caso soprattutto per l'autismo vorrebbe dire molto. C'è anche l'ex zuccherificio di Castiglion Fiorentino tra i quattro presidi di Eridiana Sadam interessati dall'avvio della procedura di mobilità. In totale sono 162 i lavoratori coinvolti dipendenti presso i siti ex saccariferi di Arezzo, Celano, Fermo e Iesi. La società spiega in una nota è stata costretta all'avvio della procedura in concomitanza con il termine al 30 giugno dei regimi di cassa integrazione che le leggi vigenti non consentono di prorogare ulteriormente. Le ragioni che determinano la situazione di eccedenza del personale, prosegue Eridiana Sadam, sono connesse al drastico ridimensionamento del settore bieticolo saccarifero italiano imposto dai regolamenti comunitari di settembre del 2006. In Italia si è infatti passati da 19 a 4 zuccherifici e inoltre all'impossibilità di attuare ad oggi i progetti di riconversione relativi ai suddetti siti previsti dagli accordi di riconversione e dagli accordi sindacali sottoscritti. Parliamo adesso di emergenza abitativa. È nata infatti ad Arezzo l'Agenzia Sociale per l'Affitto per sostenere chi è in condizione di disagio. Il servizio. Favorire l'incontro tra domanda e offerta di abitazioni a costo sostenibile sul mercato immobiliare privato. Questo è l'obiettivo con cui nasce l'Agenzia Sociale per l'Affitto, una nuova modalità di intervento nel settore della casa allo scopo di individuare abitazioni idonee fornendo ai proprietari specifiche garanzie. Uno strumento per rispondere ad un'emergenza rispetto alla quale la sola edilizia residenziale pubblica non può fare fronte, come sottolinea Gilberto Dindalini, presidente di Arezzo Casa. Fruitori del servizio saranno in particolare gli utenti segnalati dal comune di residenza in condizione di disagio abitativo per motivi economici o particolari situazioni soggettive o familiari. L'Agenzia Sociale sceglierà tra più offerte di locazione quella che prevede il canone più vantaggioso per l'utente rispetto ai valori medi di mercato. Arezzo ha ricordato Marcello Caremani, assessore comunale alle politiche per la casa, è la quarta città toscana per numero di sfratti eseguiti. Gli elenchi ERP ci consentono di sistemare solo 25 famiglie all'anno su centinaia di domande. L'Agenzia, ha sottolineato il consigliere regionale Lucia De Robertis, intercetta un nuovo target che fino a poco tempo fa non passava dai servizi sociali. Coloro che, nonostante abbiano un reddito, non possono dare garanzie certe al proprietario dell'alloggio. Ecco allora che subentra il comune. Per l'utente è costituito un fondo di garanzia con importo massimo di 5.000 euro che viene attivato a fronte di un contratto di locazione a canone concordato. L'agenzia si trova presso la sede di Arezzo Casa S.p.A. in via Margaritone 2 ad Arezzo. E torniamo adesso a parlare di cronaca. Ragazzi sempre più giovani si mettono alla guida in stato di ebrezza. Nel corso dei controlli notturni per contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera, la polizia stradale di Arezzo ha ritirato nel weekend appena trascorso sei patenti a conducenti trovati con un tasso alcolemico sopra il limite consentito dalla legge. Tra questi ben tre erano neopatentati. I carabinieri di Cortona hanno denunciato in stato di libertà, sempre per guida in stato di ebrezza, un 33enne marocchino residente in Valdichiana che lo scorso 24 marzo era rimasto coinvolto in un incidente presso Foiano. Dall'esame era emerso un tasso alcolemico tre volte superiore ai limiti di legge. Tenga il resto, arriva anche ad Arezzo la campagna contro lo spreco alimentare. Vediamo di cosa si tratta. Ad Arezzo arriva Tenga il resto, un'iniziativa contro lo spreco dei rifiuti, un'iniziativa che arriva in Toscana come seconda dopo la Lombardia. Sì, dopo Monza, Arezzo. È un'iniziativa virtuosa per ridurre gli sprechi e per valorizzare le risorse. I cittadini che quando vanno al ristorante si vedranno proporre che gli avanzi vengano portati a casa proprio per recuperarli. Quindi è un'iniziativa positiva grazie all'Associazione Commercianti di Arezzo e al Consorzio Cial che si è reso disponibile a fornire tutte le vaschette per questa iniziativa. E saranno oltre 100.000 le vaschette che verranno consegnate ai pubblici esercizi da Cial. Esattamente. Il progetto evidentemente prende le basi sulla prevenzione, sulla prevenzione della formazione del rifiuto in questo caso organico e credo sia molto importante perché è inglobato all'interno del cibo. Ci sono ovviamente la potenzialità di consumi energetici ma anche di acqua e di territorio che sono nella filiera precedente alla cottura evidentemente. Riciclare l'alluminio permette di risparmiare il 95% dell'energia inglobata. È un settore estremamente di nicchia, capiamo che non possono essere enormi i quantitativi recuperati ma è importante la concezione mentale di chi fa questa cosa perché significa che è pienamente presente nella dinamica del recupero dei rifiuti. Commercio collabora con questo progetto, la parola chiave è recupero. Dal 2011 già in Commercio si parla di recupero, riciclo e risparmio. È una mantra della nostra associazione, dei nostri associati. Erano preparati a questo perché se ne parla all'interno perché siamo convinti che lo sviluppo sostenibile è l'unica forma di sviluppo del futuro. Finanziamenti a tasso zero per le aziende colpite dal maltempo del 4 e 5 marzo scorsi. Questo è il contenuto dell'accordo firmato oggi da Confesercenti di Arezzo, Confesercenti Nazionale e Unicredit. L'iniziativa dal titolo Solidarietà a tasso zero consiste in una forma di finanziamento con un plafond di 3 milioni di euro riservato alle aziende della provincia di Arezzo e dei comuni limitrofi, tra cui ricordiamo San Giustino Umbro, Città di Castello e Passignano sul Trasimeno. I titolari potranno ottenere un finanziamento massimo di 50 mila euro a tasso zero che sarà erogato entro dieci giorni dall'autorizzazione senza alcun costo per questa pratica. Dalle scuole di Siviglia alle imprese di Arezzo al via il progetto di Erasmus di 11 giovani spagnoli. Trascorreranno tre mesi ad Arezzo per acquisire strumenti conoscitivi, competenze tecniche e linguistiche che li aiuteranno a raggiungere una maggiore competitività nel mercato del lavoro. Sono gli 11 ragazzi spagnoli provenienti da Siviglia che prendono parte ad Erasmus+, un progetto di mobilità internazionale coordinato dall'associazione Opencom nell'ambito dei tirocini formativi professionali per studenti degli istituti tecnici. I ragazzi spagnoli svolgeranno attività formative presso dieci aziende aretine nei settori di telecomunicazione, carrozzeria, elettrauto, autoriparazione e climatizzazione. L'esperienza all'estero dà non solo un valore aggiunto dal punto di vista della formazione ma anche dal punto di vista dell'apertura culturale, dell'apprendimento delle lingue, della conoscenza di un mondo, di una città diversa. Noi facciamo attività di promozione sociale nella disseminazione dei progetti europei, nella disseminazione anche di altre attività a favore dell'ambiente, della formazione, della cultura. Due giorni dedicati alla lettura per i bambini. Il borgo di Raggiolo ospita l'ultimo laboratorio del progetto Il Crinale Parole come Pietre proponendo un appuntamento organizzato dall'associazione Noi delle Scarpe Diverse e dedicato alla lettura per i più piccoli. Sabato 18 e domenica 19 di aprile, infatti in programma, i grandi leggono per i piccoli con un fine settimana immerso nella natura casentinese in cui l'attore Aretino, Samuele Boncompagni, insegnerà come raccontare ed esprimere le parole di un testo per coinvolgere ed emozionare il pubblico più giovane. Le iscrizioni a questo laboratorio scadono mercoledì 15 di aprile. A Sassinio nella cattedrale, il Rotary Club porta nella pieve di Arezzo il dramma di Elliot per raccogliere fondi da destinare al restauro. Vediamo il servizio. Dopo il sostegno economico per la restaurazione di alcune opere all'interno della pieve di Santa Maria ad Arezzo, Rotary Club si pone nuovamente a servizio dell'arte, promuovendo una raccolta fondi con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni alla salvaguardia dei beni artistici della città. Sabato 18 e domenica 19 aprile, la pieve di Arezzo diventerà scenografia dello spettacolo a Sassinio nella cattedrale, in un libero adattamento del dramma di Elliot. L'iniziativa, promossa da Rotary Arezzo Est, darà inizio ad una raccolta fondi destinata al restauro di alcune opere all'interno della chiesa e al risanamento di alcuni elementi della struttura che versano in condizioni precarie. Una cosa fondamentale è riportare questa chiesa che è stata con il fonte battesimale dove siamo già intervenuti cara a tutti gli aretini perché si veniva qui a battezzarsi, non c'erano altri luoghi, riportarla a questo luogo di conoscenza e addirittura dimostrare come la Torre Campanaria si trova in uno stato veramente disastroso. Si vuole sensibilizzare, cominciando dal poco, perché ovvio che non abbiamo presunzioni di essere coloro che hanno in mano la soluzione di tutto, però intanto sensibilizzare la città e far capire che ci sono capolavori come questo o addirittura una Torre Campanaria della Pieve che rischia di venire giù è importante anche attraverso il teatro, anzi forse proprio un tempo il teatro sacro era esattamente come quello profano, lo facevano nel Sacrario delle Chiese e aveva la stessa mission diciamo in un qualche modo, quindi noi vogliamo ricalcare queste orme e aspettare la cittadinanza, ci auguriamo numerosa, desiderosa di dare un'offerta all'ingresso, libera, per godere appunto di assassino nella cattedrale e riuscire in questo modo a trovare il denaro necessario per restaurare almeno questa meravigliosa altare che sta alle spalle. E veniamo adesso alla pagina sportiva, la struttura della nave trova la sua originale destinazione, cioè quella sportiva grazie alla convenzione con l'Arezzo Calcio che ha scelto anche il nostro campo per le proprie attività calcistiche. Questo il commento del sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli all'indomani della firma della convenzione della durata di 5 anni tra il comune della Valdichiana e l'Arezzo Calcio. L'accordo prevede un canone annuale dal quale verrà scorporato il costo di eventuali lavori di manutenzione. In questi giorni sono stati avviati i lavori agli impianti. Un accordo che può fare solo del bene alle parti e apre nuove frontiere alla società Amaranto. Ha commentato Agnelli che oltre che essere primo cittadino di Castiglion Fiorentino è anche responsabile per le comunicazioni esterne dell'Arezzo Calcio. Ovviamente, conclude il sindaco di Castiglioni, rimarranno inalterati gli spazi necessari per le attività sociali e ricreative. Oltre 400 atleti hanno partecipato ieri alla 32esima edizione di Vivi Città, la corsa più grande del mondo. Alessandro Annetti, primo classificato. Vediamo il servizio. Si è svolta la 32esima edizione di Vivi Città. Come è andata anche a livello di partecipazione? Una partecipazione che vede un'iscrizione di circa 400 atleti partecipanti, compresa naturalmente anche la parte ludico-motoria, quella della passeggiata che era inserita all'interno della gara competitiva. Quindi direi un bel successo questa manifestazione. Poi mi piace ricordare anche la collaborazione che abbiamo avuto da Nove Acque, che abbiamo avuto da Sei Toscana e da Coldiretti, che è un partner che si è aggiunto quest'anno e col quale abbiamo in essere un progetto che riguarda l'alimentazione e lo sport. Anche i premi vengono da una collaborazione particolare? Noi che siamo l'associazione dello sport per tutti, naturalmente andiamo a fare sport in tutti quei luoghi dove altri non vanno. Uno di questi è il carcere di Arezzo. I detenuti realizzano dei manufatti in legno che noi ora daremo come premi ai primi classificati. Ci sembra un modo anche per far partecipare anche loro. Una bella vittoria in un bellissimo contesto perché Vivi Città è sempre una festa come tutti gli anni. Siamo stati subito io e Daniele Prezzi al comando per una buona metà anche più della gara. Poi ho cercato di allungare dopo la salita che porta all'uomo. Nella discesa e nella parte pianeggiante ho cercato di allungare e ho avuto la meglio su Daniele. Non potevamo mancare con il nostro chilometro zero, con i prodotti delle nostre campagne per far fare a questi atleti alla fine di una faticata durante la corsa, almeno una degustazione di prodotti genuini, di sicura provenienza, di qualità e soprattutto del territorio. Il Mona Lisa Softball inizia il nuovo campionato di serie A2 con due belle vittorie. La formazione femminile del BSC Arezzo ha infatti debuttato nel migliore dei modi mostrando tutto il proprio potenziale e festeggiando sui campi casalinghi dell'Estra Ballpark una doppia affermazione sulle riminesi del Val Marecchia. Un attacco particolarmente prolifico e tante giovani di talento hanno permesso di superare le avversarie con i punteggi di 8 a 2 e 15 a 5, proiettando così l'Arezzo in testa alla classifica in attesa del big match contro l'Atoms di Chieti. E qui si ferma questa edizione del nostro notiziario. Io vi ringrazio per essere stati con noi. A voi tutti un buon proseguimento con i programmi di TSD. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.